Nei giorni scorsi ho ricevuto questo messaggio dall'amico Davide Calabrese, attore, drammaturgo, componente di quello straordinario gruppo musicale e teatrale degli Oblivion, prestigiatore anche lui, insomma. Ecco che cosa mi dice. Enigma Roll, il successo del documentario di Anselma Dell'Olio. Enigma Roll, è un caso, il successo al box office del documentario sul sensitivo amato dai potenti. Caro Massimo, io sono sorpreso, so che sei uno degli attori, possiamo dirlo così, di questo film, ma il successo che sta avendo la figura di Gustavo Roll è veramente impensabile, ma sociologicamente parlando, ma come ce la spieghi? È una domanda interessante ed è di questo che parleremo oggi insieme. Ben trovati i naviganti, sono ancora qui ad Harvard e naturalmente seguo da distante quello che succede in Italia e una delle cose che sono accadute è proprio l'uscita di questo film, Enigma Roll, di Anselma Dell'Olio. È un film che racconta in parte con ricostruzioni di fiction, in parte con interviste a persone che l'hanno conosciuto, esperti e altri, insomma, la figura di Gustavo Rohr, quindi il sedicente, sensitivo, famoso, soprattutto a Torino, ma anche in tutto il nostro paese, tra gli anni 60, 70 e un pochino anche 80, e che insomma ha fatto tantissimo parlare di sé. Io ho dedicato un video a cui vi rimando, naturalmente, dove potete riscoprire la sua storia, sapere un po' che cosa ne pensava la scienza, quel poco che ne pensava, visto che non si è mai sottoposto a nessun tipo di verifica, e quindi farvi un'idea anche più completa, se volete, su questo argomento. Di famiglia benestante, Gustavo Adolfo Roll, che per sua fortuna non doveva lavorare per vivere, si divertiva a organizzare in casa sua serate paranormali, alle quali consentiva di partecipare solamente a pochi amici e conoscenti di riguardo. In particolare, Roll amava circondarsi di celebrità, del mondo dello spettacolo, della cultura, dell'industria, della politica, tra i suoi amici. Però, come dice Davide, è interessante effettivamente cercare di capire come mai abbia ancora così tanto fascino una figura come quella di Roll legata a un mondo, quello del magico, dell'occulto, e in un contesto, quello di Torino, che è sempre stata in qualche modo presentata negli ultimi, nella seconda parte del Novecento, come la città magica per eccellenza. Come mai questa figura, che effettivamente è datata, ha ancora così richiamo, così fascino? Penso che i motivi siano diversi, nel senso che da un lato c'è un gruppo di suoi ammiratori, anche discepoli, se così vogliamo chiamarli, che ha mantenuto viva la memoria attraverso pubblicazioni, libri, ricordi, memoriali, anche video, anche qui su YouTube se ne trova, insomma, che ricordano proprio la figura di Roll, naturalmente con tantissima leggenda, tantissima fantasia e nessun tipo di scienza intorno. Però questo è sicuramente uno di quegli elementi. L'altro aspetto si deve forse al fatto che queste storie piacciono sempre, l'idea che ci sia qualcuno che ha scoperto capacità straordinarie e che possa fare cose incredibili. Sulla figura di Roll, come dicevo, ho realizzato un video a cui vi rimando e magari dopo, in conclusione, vi metto un estratto, così potete anche vedere di che cosa si tratta e poi guardarvi il video per intero. Però appunto la figura di Roll è interessante da un punto di vista psicologico, sociologico, appunto, per capire come molto spesso noi siamo portati a dare credito ad affermazioni straordinarie che non sono documentate e comprovate in nessun modo, proprio perché, come dicevamo, Roll si è sempre rifiutato di sottoporsi a un qualunque tipo di verifica, dove fosse presente anche solitamente una videocamera con cui poi osservare queste sue dimostrazioni dei presunti poteri che vantava di avere. Ma si esibiva solo in casa sua, solamente per un gruppo selezionato di persone che erano i suoi ammiratori, i suoi seguaci, si potrebbe quasi dire, e lo faceva sempre in orari veramente tardi. In genere questa è un po' la sua regola, invitava a casa sua alcune persone, spesso anche conosciute, famose, sappiamo che Fellini era uno dei suoi ammiratori, e poi iniziava queste lunghissime chiacchierate che andavano avanti fino a mezzanotte, luna di notte, e solo allora, quando il pubblico intorno a lui era anche abbastanza stanco, probabilmente, e poco attento, iniziava le sue dimostrazioni. E' il clima ideale per qualunque prestigiatore voglia presentare qualcosa e non far capire il trucco. In realtà i prestigiatori si esibiscono a qualunque ora, in qualunque condizione, però insomma se hai qualche dubbio sulle tue capacità tendi a farlo per un pubblico che è magari un po' più distratto, un po' più stanco. Ma questo era un pubblico favorevole, soprattutto. Un pubblico favorevole, cioè un pubblico che non si mette a osservare in maniera critica quello che accade, ma si lascia trascinare dal racconto, dalla magia, della narrazione, che uno come Roll, che sicuramente era molto bravo a raccontare le cose, riusciva a costruire. Io credo che questo sia l'obiettivo agognato dalla maggior parte dei prestigiatori, cioè quello di riuscire a lasciare un segno dentro chi ti guarda. Chi riesce a fare questo è un bravissimo illusionista. La telepatia, la chiaroveggenza, tutte le facoltà di percezione extrasensoriale supposte non sono mai state dimostrate da un punto di vista scientifico, non esiste una sola prova. Tutti parlano di Roll per gli esperimenti, ma lui ha salvato un sacco di cose. Se non avesse risposto, quella donna si sarebbe suicidata. Lui per tutta la notte ha fatto esperimenti con i tedeschi, e non soltanto di veggenza per dire che cosa c'era nei loro cassetti, ma anche per metterli in contatto con i loro cari. È in epoche di grandi incertezze, lo sappiamo. Il fascino del magico, l'attrazione di tutto ciò che è magico e che sembra dare risposte sovrannaturali quasi alla realtà e a quello che ci capita intorno aumenta. Indubbiamente il momento storico che stiamo vivendo è pieno di incertezze, di dubbi, anche di ansia, di paure. E una figura come quella di Roll in qualche modo aiuta la fantasia, aiuta anche, forse dà anche un po' di conforto ad alcune persone, perché immaginano così che possa esistere questa altra dimensione straordinaria dove si può accedere a chissà quali capacità e facoltà e anche soluzioni, forse, ai problemi che sono molto più difficili da risolvere nella realtà concreta in cui tutti noi viviamo. Percepisco solo delle cose. Roll poteva fare delle cose vere, non vere, barare, non barare, però ti portava sempre a un livello alto, a livello dello spirito. Non mi dilungo quindi nell'entrare nel merito di quello che faceva Roll, appunto, visto che ne ho già parlato in un altro video, e se volete andare ancora più a fondo, naturalmente vi consiglio sempre il libro di Mariano Tomatis, Roll, realtà o leggenda, con questo bel gioco sull'acronimo che è il nome di Roll, dove ha fatto un lavoro veramente certosino, andando ad analizzare le testimonianze delle persone che erano presenti alle sedute, alle serate di Roll, mettendo a confronto quello che dicevano. Cosa interessante per chiunque si occupi di giochi di prestigio, chiunque sappia come funzionano queste cose, è che li vedi descritti esattamente come funzionano, quali erano le tecniche che usava, quali erano i meccanismi del depistaggio che adoperava. Gli effetti di Roll bisogna pensare che sono molto vicini ad un classico della prestigiazione o del mentalismo. Nel film di Anselmo Dell'Oglio io intervengo come, appunto, voce critica, se così vogliamo, ricordando l'esperienza di Piero Angela, che ha avuto occasione di andare a casa di Roll, quando ancora però non era conosciuto come, diciamo così, scettico nei confronti della parapsicologia, ma solo come volto del telegiornale, magari o comunque dei suoi documentari. E quindi Piero Angela ha osservato Roll da vicino, l'ha vista in azione e poi però ha rivisto le stesse cose fatte da prestigiatore una volta che è tornato a casa. E questa è tutta un'altra storia, anche questa in parte ne parlo nel mio video a cui vi rimando. Quindi nel film, Anselmo Dell'Oglio, io intervengo ricordando quelli che sono i punti fissi, cioè che proprio non esiste nessuna verifica, che Roll si è sempre rifiutato, si è esibito solamente per persone non competenti, ha sempre rifiutato qualunque contatto con Sylvan, per esempio, che più volte si è proposto di andarlo a trovare, di osservare le sue esibizioni, perché così anche magari sinceramente ammirava la capacità di Roll, ma sapeva bene, evidentemente, Roll che se fosse stato osservato da qualcuno che i trucchi li conosce molto bene, sarebbe stato scoperto. Quindi non c'è molto altro in realtà da dire su questa figura, se non che continuerà a suscitare interesse nei suoi sempre meno adepti, naturalmente, man mano che il tempo passa, e i libri scritti su di lui probabilmente continueranno a sollevare domande, curiosità tra gli appassionati. Questo è un po', questo film, e anche l'attenzione che sta ricevendo, è forse uno degli ultimi fuochi d'artificio di questa figura, perché è difficile costruire un racconto, è difficile costruire anche, mantenere un legame, un ricordo di qualcuno che non si è mai esibito davanti a una telecamera, non ha mai registrato le sue esibizioni, e si basa esclusivamente sul ricordo, che come ben sappiamo è totalmente inaffidabile alla nostra memoria, sul ricordo di chi può averlo visto, può andare avanti per un po', ma poi scomparirà, soprattutto perché non essendoci mai stata nessuna verifica scientifica, non c'è nessun documento attendibile che racconti quegli incontri, e al di là di questa piccola cerchia di appassionati italiani, all'estero nessuno ha mai saputo chi fosse Rol. Ecco, detto questo, vorrei anche rispondere a chi in genere, quando si parla di una figura come quella di Gustavo Rol, dice sì, però lui ha salvato delle persone durante la guerra o un po' altro, che è un grandissimo merito, se questa storia è vera, naturalmente è un grandissimo merito, ed è una cosa meravigliosa se l'ha fatta. Magari stona un pochino il fatto che lui stesso ricordasse di aver salvato queste persone. Se pensiamo a un'altra figura come quella di Carlo Angela, che è il papà di Piero Angela, che ha nascosto nella sua clinica psichiatrica vicino a Torino decine e decine di persone ebrei, antifascisti, che erano così, cercavano di salvarsi durante la guella, fingendo che fossero malati di mente, ma che non ne ha mai parlato per tutta la vita, e che questa storia è venuta fuori solamente negli anni 90, quando uno dei superstiti ha raccontato quella storia in un libro e effettivamente le indagini che sono state fatte dalla comunità ebraica, Israele, hanno confermato che era tutto vero e Carlo Angela oggi ha una stella che lo ricorda proprio nel Giardino dei Giusti, Gerusalemme, quindi è benissimo fare del bene, se anche Rol ha fatto del bene grande merito a lui, ma questo non dimostra nulla circa le sue facoltà paranormali, che è il tema di cui la scienza eventualmente si sarebbe interessata. Mancando la disponibilità da parte di Rol, quello che resta è solamente, come diceva Tomatis nel suo libro, realtà o leggenda, resta solo la leggenda, e la mia convinzione è che questo fosse esattamente quello che voleva Rol. Ma prima di concludere vorrei chiedere ancora a Davide che cosa pensa lui di tutto questo. Beh, da professionista dello spettacolo sono l'uomo più felice del mondo, quando ci sono le code al botteghino posso solo che gioire della cosa, però una riflessione la faccio, se da un lato scienza e tecnologia oggi sono arrivate a dei livelli altissimi, dall'altra vedo anche questo aumento del fascino nei confronti del mondo del mistero, quindi razionalità e irrazionalità sono in contraddizione, ma secondo il mio punto di vista no, viaggiano sullo stesso binario e spero che le nuove generazioni siano affascinate dal mondo del mistero proprio perché volonterose di affrontarlo con gli strumenti della scienza. Insomma, grazie Davide per il tuo commento. Noi non solo ci risentiamo molto presto, ma finalmente vi anticipo, sta per tornare il caso Kennedy, la settima puntata, quella dedicata alla teoria del proiettile singolo o come la chiama Oliver Stone nel suo film del proiettile magico, sta per arrivare venerdì proprio, venerdì 17. Naturalmente ci sarà questa puntata e vi raccomando, non ve la perdete. A presto. Quando lo stesso Silvan fu sfidato in televisione a replicare la lettura in un libro chiuso per cui Roll era famoso, lo fece in una maniera ancora più straordinaria di lui. Cercate il video di quella incredibile esibizione e vedrete da voi. Lei scelgo un libro per cortesia. Vediamo il primo, mi puoi seguire Costas qui? Vediamo il primo. È un po' cattivello, non è importante. Va bene, uno qualsiasi, è il primo che mi viene. Ecco, stia attento. Lei per cortesia vuole aprire questo libro dove vuole lei. Dove voglio io. Dove vuole lei. Non le chiedo neanche la pagina. Avrei potuto benissimo farle scegliere la pagina con un mazzo di carte come fa il nostro amico Roll. Io non faccio niente della pagina.